Sì ma va tanto loro lo sai vai vai c'è dietro dietro andiamo e la e la vai non chiudere 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 no perché di lì non riusciamo ad andare su di liberarla qua eh bisogna tagliarlo via la non riesci a troppo perché bisogna liberarla cazzo stavi andando da dio eh se fosse dentro una cavattata sarebbe bello sì sì uno così li ammazzi tutti non chiudere non chiudere non chiudere non chiudere